Colomba Mungiello, parlamentare del PD, la Camera ha dato il via libera all'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sulla contraffazione. Di cosa si tratta e che compiti avrà questa commissione? Sì, ieri in Parlamento abbiamo registrato una larga convergenza su quelli che sono i temi della difesa del Made in Italy e il tema della contraffazione e della pirateria commerciale, che da soli valgono qualcosa come 60 miliardi di euro nella più perfetta legalità. Perché abbiamo presentato una commissione? Perché questo è il compito, tra l'altro, di indagare su questi fenomeni e soprattutto mettere in sintonia ovviamente il Parlamento, l'Unione Europea, creare le convergenze giuste affinché possiamo normare e aiutare anche il nostro Made in Italy. Perché l'Unione Europea è restia ad avviare un'azione contro la contraffazione? Ma guardi, il Parlamento italiano già nella scorsa legislatura ha emanato delle leggi importanti, mi riferisco soprattutto a quella dell'olio, che è stata una delle leggi più apprezzate in Europa. Lì abbiamo etichettato, tracciato un prodotto e l'abbiamo reso riconoscibile. Perché noi abbiamo ovviamente i prodotti migliori e l'Italia ha il prodotto più copiato al mondo. E quindi significa che l'Italia deve rappresentare in Europa le istanze di difesa del Made in Italy contro la contraffazione e l'agropirateria, che purtroppo colpiscono i consumatori che non sanno cosa stanno consumando e i produttori onesti.